Bene amici, ma liate le grandi occasioni Meizu perché ho in prova l'M3S La versione più piccola, compatta dei classici Meizu Penso all'M3 Note che andava benissimo E questo non è che è più piccolo e va peggio Anzi, va benissimo anche lui Ha un display HD, ha le solite gesture fantastiche Ha una batteria eccezionale Ho la ROM asiatica Qualche problema di ricezione delle notifiche Se non avesse questo problemino sarebbe un Best Buy Così per utenti consapevoli Ma andiamo a scoprirlo insieme E sì, eccolo qua il 3S Andiamo a vedere la confezione e cosa comprende Devo dire, poca roba in tradizione Meizu I cinesi hanno veramente poca dotazione a bordo Cavo USB, micro USB e il carica batterie con uscita da 1.5A Quindi non ha la carica veloce Però diciamo che in circa 3 ore si carica Buttiamo la scatola Accendiamo il telefono Tasto accensione posto qua a destra Con il tasto volume sopra Poi abbiamo il jack per le cuffie E lateralmente il carrellino Si possono mettere dentro o due SIM Due nano Oppure una SIM più una microSD Per espandere i 16GB a disposizione Sotto microfono, altoparlante E come dicevo prima il jack per le cuffie Fa molto professionale queste due vitine che vanno a chiudere tutto E dietro design ormai classico Meizu Completamente in metallo Doppio flash LED Camera da 13MP Devo dire che è un telefono 5 pollici Quindi si tiene veramente bene in mano Soprattutto le finiture Vedete ha un vetro curvo ai lati Molto bello secondo me Ha il LED notifica, un po' fioco Posto qua in alto a destra Camera anteriore da 5MP Poi sensore di umidità a prossimità E qua sotto il sensore con l'impronta digitale Che devo dire sblocca sempre Non è fulmineo Ma ha delle gesture fantastiche Un passo indietro Non ha l'NFC Il wifi L'avete visto non è velocissimo Vi parlo però di autonomia Non è velocissimo Per me che ho una connessione super veloce Per chi ha delle DSL medie Voglio dire va più che bene Vi parlo di batteria 3020 mAh Ottima l'autonomia Cliccate qua sopra Andate a vedere la giornata stress Che ho ripreso Normalizzato arrivo a sera Con un buon 20% di batteria Magari vi faccio vedere anche Gli screenshot che ho fatto Nella giornata stress Sono stati veramente interessanti i dati Perché Allora il telefono Non dà statistiche precedenti le 12 ore Quindi nelle ultime 12 ore Ho fatto 3 ore e 52 di schermo acceso In uso vedete C'è stato uno scaricamento della batteria Abbastanza costante Poi la sera ovviamente L'uso è calato E si è un po' appiattita la curva Ma devo dire che ho fatto Oltre 4 ore e mezza di display Acceso con 41 minuti di chiamate Insomma veramente una batteria interessante Vi parlo del display Che è un 5 pollici HD 294 ppi E non so perché Ma ormai è una forma mentale Che mi fa uscire E entrare tutte le volte nella galleria È oleofobico Il sole si vede bene È tarabile la temperatura a colori Anche la luminosità non è male I neri sono da IPS Sì se lo mettiamo di taglio Come vedete Un pochino diventano grigini Ma in questa fascia di prezzo ci sta Anche i bianchi sono belli Ma soprattutto i colori belli Forse qualcuno potrebbe dire naturali Io li considero un filino slavatini Ma comunque in sostanza un bel display Anche il sensore di luminosità lavora bene Andiamo a vedere che versione software monta Monta la Flyme 5.1.5 Basata su Android 5.1 Ok una versione vecchia di Android Ma chi se ne frega la Flyme come vedete Copre praticamente ogni ambito E quindi non ci sono grossi problemi Da quel punto di vista Parliamo di parte telefonica Andiamo qua Dual SIM Gestito abbastanza bene Non c'è la possibilità di differenziare La suoneria tra SIM 1 e SIM 2 Ma la ricezione Pur mancando la banda LT800 Non mi ha mai dato problemi In questi tre giorni di prova Allora il volume non è altissimo Della capsula auricolare Si sente sicuramente bene Dicevo del volume del viva voce Le applicazioni girano bene Proviamo a aprire il solito Instagram Twitter eccetera 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 Non so perché adesso mi ha dato L'impossibilità di aggiornare il feed Boh misteri di Instagram Andiamo allora ad aprire il gestore delle pagine Non è fulminio ad aprire le applicazioni Lo vedete in questo contesto Però una volta che sono aperte Devo dire che non ha particolari problemi Anzi gira molto fluido e reattivo Come mai non carica Ok adesso ha caricato Vedete Proviamo a scrivere anche qualcosa Pubblichiamo Ci mettiamo qua E scriviamo la solita frase Bello il feed della vibrazione Non è precisissimo Non è stock 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 Ma non è quello zanzaroso Quindi devo dire premiato E poi le gesture sul tasto centrale Sono sempre veramente un plus Perché come avete visto Se entriamo in un'applicazione Cliccando torniamo alla home page Se faccio solamente uno sfioro Torna indietro Se tengo premuto a lungo Si spegne il telefono Poi per riaccendere Niente Basta schiacciare Vedete si sblocca automaticamente Swipe in alto Si apre il multitasking C'è anche la multifinestra Vedete io posso mettere Alcune applicazioni Purtroppo non tutte In una seconda finestra Per esempio Instagram e le impostazioni Con un click Poi torno alla home page Poi swipe in basso Si aprono le notifiche E swipe in alto Si apre la finestra della ricerca Vedete dei simboli asiatici Cinesi nello specifico Si perché io ho la versione Non internazionale Ma la versione Versione asiatica E' un telefono per utenti Immediamente consapevoli Perché il play store Va installato Non è un problema Perché c'è comunque Già l'applicazione Di Meizu Il suo store Dove si trova L'applicazione Vedete qua App center Per installare tutto Non è veramente un problema Poi i contatti Che sono la cosa un po' critica Di questi telefoni cinesi Si sincronizzano Così come l'agenda Ma c'è un ma Nonostante Cioè la solita applicazione Tanto per pulire Il telefono Per bloccare il traffico Eccetera eccetera C'è il risparmio energetico Che io Nei dati che ho detto prima Non ho utilizzato Ma Vedete Nonostante Io abbia messo Le azioni Le applicazioni Di messaggistiche istantanee Per esempio telegram Avevo anche whatsapp Adesso ho disinstallato Perché l'ho installato Su un altro Su un altro Telefono Qua In questa finestra Nonostante io Nelle impostazioni Abbia Praticamente Sbloccato tutto E nonostante Io abbia messo Nel multitasking Se vado qua Il blocco Su telegram Quindi per farlo Rimanere sempre In background Le notifiche Non sempre Arrivano Arrivano puntuali Probabilmente c'è qualcosa Nel sistema Qualche risparmio strano Che da questa criticità Ci ho detto Il browser web Gira bene Gira come ci si aspetti Che giri Chrome Su questo telefono Andiamo su Automoto.it Ce la posso fare Ok Automoto.it Andiamo Aspettiamo il caricamento Secondo me Il mio wifi Ha dei problemi Perché vedete Che non carica La rete web Proviamo a Vediamo un po' Sì sono collegato Su Andrea LAN 5 Togliamo un attimo Il wifi E rimettiamolo Vediamo un po' Se sblocchiamo Il problema della rete Vedete che comunque Si collega Molto velocemente Al wifi Ok Si è aperto Il mobile Richiediamo Il sito In desktop Vedete come gira Chrome Bene Gira Bene Sì qualche laggettino Qualche cosina Ma voglio dire Nulla di problematico Torniamo alla home Real Racing Si apre in 25 secondi Poi gira Fluido Non ha problemi Con la Mali T860MP2 Che lo fa girare bene Il processore è un Mediatek 6750 Ha 2 GB di memoria RAM E la mia versione È da 16 GB di memoria integrata Foto a buzz Allora Le macro Le foto da vicino Vengono bene E poi vi farò Vi dirò una cosa Che avete già forse notato Messa a fuoco Abbastanza veloce Non velocissima Ma la criticità di questo telefono È la gestione dell'esposizione Vedete se io clicco su buzz Intorno diventa molto molto scuro Se clicco fuori Buzz viene sparato Insomma fa fatica a gestire le luci Qua sono le impostazioni Con le foto Che dobbiamo fare Per forza 4 terzi Perché guardate In 16 noni Come cala la risoluzione Va a 3 megapixel Veramente pochina Video che possono essere girati Anche in Full HD Al massimo Modalità manuale Bellezza Panorama Insomma vedete tutte le modalità Della fotocamera In manuale possiamo Modificare questi parametri Quindi la voce di scatto Gli ISO Il fuoco E la compensazione Dell'esposizione Ma andiamo a vedere Come sono questi scatti E allora andiamo qua Nella galleria Siamo ovviamente Sempre nella cartella di test Usciamo Andiamo qua Nelle foto E partiamo da qua Partiamo dall'ascensore Allora il flash Illumina abbastanza bene È doppio E soprattutto si regola Bene in base al contesto In base In base alla scena Anche se questa è la foto fatta Senza flash È questa fatta con flash Senza flash Al buio E ci sono altre foto fatte In questi contesti Fa fatica Camera anteriore Sì dai La sufficienza Gliela diamo Questa è una foto fatta con voi È bello l'effetto sfocato del fondo Quando facciamo una foto macro Lo vediamo qua Le macro Vi dicevo prima Sono belle Come vedete questa margherita È stata presa molto bene HDR Non HDR Beh Devo dire che funziona Funzionicchia Non malaccio Beh quando c'è tanta luce Le foto non sono male E i video Ragazzi guardate questo video Perché c'è una macchina Bellissima Non lo so Potentissima Sicuramente sì Carissima Anche qua Sicuramente Sicuramente sì Ma se faccio così Vi faccio vedere Un altro selfie Qua Notare le somiglianze Ero alla sede Volkswagen E c'era fuori una Q2 Ditemi cosa ne pensate Anche di questa macchina A me sinceramente non fa impazzire il design Sono curioso di provarla Insomma 13 megapixel Foto discreta Fa poca fatica Allora Fa un po' fatica Con poca luce E fa un po' fatica A capire l'esposizione Ma un 6 e mezzo Alla fine se lo prende I video fanno un po' fatica A mettere a fuoco Ascoltiamo l'audio Bublé Entriamo nella musica L'applicazione è la classica applicazione Di Meizu Andiamo qua col play Indietro Mancano un po' i bassi Ma direi che il volume è buono E anche dalla cuffia si sente abbastanza bene Io l'ho preso dal grosso shop E costa attorno ai 170 euro Se non fosse per le notifiche pigre Sarebbe un best buy al pari Di Redmi 3 Pro di Xiaomi Perché? Perché ha dei bei materiali Perché si usa bene Con una mano Si veramente Si utilizza Alla grandissima Poi le gesture Di Meizu Sono fantastiche Ma aspetto A flashargli La ROM internazionale Per vedere Se migliorerà O se permarranno Alcuni problemini Su tutto Autonomia ottima Buon funzionamento generale Insomma Vale tutto quello Che costa Per le foto E per qualche Kick in più Vi aspetto su Andragaleazzi Punto com Alla grandissima Grazie a tutti.